Il comune di Castellabate ha partecipato al bando di politiche giovanili Fermenti in Comune promosso da Anci in partenariato con l'associazione Ocilento attraverso il progetto Web Social MKTG, strumento vincente di promozione sociale giovanile orientato alla formazione di figure innovative operanti in ambito Web Social Marketing come blogger, influencer, agenti, i ragazzi che decideranno di partecipare alle attività dovranno attraverso laboratori specifici occuparsi della promozione Web Marketing delle botteghe di vicinato di Castellabate per incentivare la loro presenza sul web e sui social. Il progetto intende quindi connettere col futuro i micro imprenditori locali attraverso un marketing innovativo e multifunzionale così da avviare la rappresentazione di un nuovo modello di futuro positivo sul territorio. Il sindaco facente e funzioni Luisa Maiuri commenta così l'idea progettuale. Si tratta di un'opportunità importante in un momento così delicato anche per il mondo giovanile e per lo sviluppo degli operatori commerciali ed è per questo che Castellabate ha deciso di candidarsi con un progetto innovativo e contemporaneo. L'assessore alle politiche giovani Elisabetta Martuscelli dichiara in merito ci auguriamo di poter realizzare questa attività che coinvolgerebbe 30 ragazzi di età compresa tra i 15 e 35 anni senza impiego rendendoli consulenti delle imprese. L'obiettivo è anche quello di creare anche a lungo termine nuove opportunità sul mercato locale per i giovani e per le imprese.